20 prostitute sono state fermate la notte scorsa dai carabinieri lungo il litorale di San Giorgio a sud di Bari. L'operazione disposta dal comando provinciale anche per garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale ha visto impegnati 50 militari, due ericotteri e 20 equipaggi del nucleo radiomobile della compagnia Bari Centro e della sezione investigazioni scientifiche per le segnalazioni fotografiche per l'identificazione degli stranieri. Nella rete dei carabinieri sono cadute soprattutto straniere, ragazze nigeriane dell'est e Europa. Le donne condotte in caserma sono state sottoposte quasi tutte alle procedure di identificazione perché prive di documenti di riconoscimento. Il blitz era finalizzato anche all'applicazione delle norme dettate dal nuovo pacchetto sicurezza in materia di immigrazione che prevedono il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Per questo una nigeriana di 25 anni è stata denunciata e subito espulsa, identico provvedimento, è stato proposto per un'altra nigeriana di 22 anni. Per tre rumene che sono comunitarie è stato invece proposto l'allontanamento dal territorio nazionale. Il prefetto dovrà valutare anche la proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio proposto nei confronti di una rumena 30 sienne ma anche di una foggiana di 27 anni e di una napoletana di 28. Per loro potrebbe scattare il diveto di rientrare a Bari per tre anni. Nel corso dell'operazione non sono stati fermati però né clienti né tantomeno i protettori o gli organizzatori del racket della prostituzione che spesso costringe le straniere a lavorare sulla strada anche con la violenza. Un fenomeno per scoraggiare il quale Michele Cassano, il sindaco di Trigiano, comune confinante con il litorale di San Giorgio, ha chiesto di installare alcune telecamere collegate con il comando di Polizia Municipale.